Siamo in diretta. 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 Ciao. Ciao a tutti. Buonasera. Anche te. Ciao a tutti. Oggi facciamo un short bigio, come si chiama in italiano? Piccolo bigio. Un corto bigio durano 5 minuti. Allora, si vede il nostro bigio, siamo una famiglia felice, sempre con mia figlia, mia moglie, con la sorella e le altre. Siamo davvero contenti, però adesso con questa situazione davvero dietro la camera siamo preoccupati della situazione. Soprattutto la bambina e la famiglia nell'altro paese, nell'Ukraine, perché questo casino sta facendo loro. E noi stiamo pregando che dopo speriamo che finisce questo casino. E poi la situazione è molto molto brutta per tutti noi, nel lavoro, nei negozi. Anche noi abbiamo un negozio, un pizzeria. Adesso è un po' casino perché non c'è nessuno che vuole andare fuori, che fa paura, che fa paura, che fa paura. Non c'è nessuno che vuole andare fuori. Vorrei ringraziare tutti i nostri vecchi e nuovi iscritti. Iscritti, non mi ricordo il nome. Tutti quelli che scrivete di nuovo, commenti belli, tutti belli, grazie a voi. C'è un cuore grande. Per loro, per il nostro, tutto umano e il mondo. Spero che tutto il mondo sia in pace. Spero che tutto il mondo sia in pace. Poi la guerra non è bella per tutti noi, anche per i bambini. Questa sera faccio il blog così. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. E sempre io e il mio figlio mi fa ridere il nostro contento. Si, si si fa ridere. Cucinare con la mia figlia. Infatti io già ho cucinato, però non ho fatto blog perché è sempre uguale. Ho cucinato uova. E è solo quello perché mia moglie non c'è. E lui non sa cucinare. E quella è verità. Buona serata prima, buona serata a tutti, almeno cinque minuti no? No è già cinque minuti, ok ciao ciao a tutti, pace al mondo, pace al mondo, pace al mondo, devo andare al bar prendere mia moglie, altra sorella di Sepia, perché sto chiedendo al bar, ok vado. Esa Closy time Contro l'urmana Sera donna lat OUCH! Oluì tu! Me la u... Ok! 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 C'è un po' la data posa E' un po' la data posa E' un po' la data posa E' un po' la data posa Dicou bar Passi ceria per cerabar E sign in or For today Ok! 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 Ano ngayon? Father and Daughter Tandem Ok! Sarado ko pala to Tinakita ko Ok! Ok! Buonanotte! Goodnight! Buonanotte!